Io sono, prima cosa devo dire, sono sballordito, mi sto ancora riprendendo dal fatto che siate così tanti perché noi a Genova e a Liguria siamo abituati che quando facciamo un gruppo e riteniamo che sia vero e numeroso raggiungiamo al massimo il numero di tre qualche volta ogni dieci anni abbiamo toccato il numero quattro e quindi c'è qualcosa di diverso tra Milano e Genova che non ho ancora capito e uno dei giuramenti che mi sono fatto quando andavo all'università è che non andrò mai a lavorare a Milano qualunque cosa ma mai però c'è una differenza tra Milano e Genova che è evidente allora siccome non vi conosco e sono abituato a parlare a pochissime persone volevo comunque cominciare a capire chi siete ma pochi minuti per capire la composizione del pubblico quanti arrottini ci sono quanti fabbri quanti quanti contadini quanti pastori scalpellini quanti cocchieri ma non fate proprio niente qua a Milano proprio non lavorate state alle spalle del sud che deve lavorare per voi sto seduto perché se sto in piedi mi arrivano delle luci in faccia che poi cado giù e allora preferisco stare sicuro tanto c'è qualcuno vicino che mi tiene in caso va bene allora intanto vi dico bravo allora sei come i miei amici di Genova bene va fantastico sono contento allora intanto vi do la cornice di questo incontro questo incontro è un incontro serissimo perché il nostro compito che ci proponiamo è lo sviluppo della consapevolezza umana che vuol dire cioè passare da uno stato di comprensione del mondo abbastanza distorta da da che cosa dagli studi che abbiamo fatto c'è il mio maestro Boris Porrena maestro di composizione maestro di vita che ha sempre detto io non ho mai incontrato una persona stupida in vita mia tranne quelli che hanno studiato troppo perché guardate che studiare come c'era scritto in un banco fa veramente male a volte uccide anche esatto uccide io non pensavo uccidesse che ti paralizzasse ma non pensavo alla morte però al di là va bene io ho fatto studi servizi la scuola liceo che ho fatto io era il più duro di Genova la classe che ho frequentato io era la più spaventosa dei docenti quando dovevo preparare greco vi ricordo l'ultimo anno le baccanti le baccanti una tragedia greca per preparare un'ora di lezione bisognava studiarne tre il problema è che avendo frequentato le classi elementari era facile comprendere che non era possibile fare per tutte le materie tre per cinque ore doveva già 15 ore di studio a casa troppo più un'ora per mangiare tre ore per dormire troppo va bene questo è un liceo molto buono che ho frequentato da cui sono uscito anch'io perché sono uscito di lì con la mente così aperta che sono riuscito tra tutte le cose che potevo fare ma proprio da tutte cioè questa, questa, questa questa, questa questa, questa dov'è che ero portato di meno che avrei faticato di più? giurisprudenza cosa ho fatto? giurisprudenza e all'interno di giurisprudenza quella era la materia che mi avrebbe fatto faticare di più perché diritto privato me la cavavo bene economia politica diritto pubblico che cosa sono diventato insegnanti di diritto pubblico cioè ma qualcosa ci deve essere di strano dalla mia testa finito ho fatto il diritto pubblico quando mia nonna che era una donna molto modesta aveva quinta elementare seppe che mi iscriveva a giurisprudenza chiese ai miei genitori se c'era della folia in casa nostra perché lei mi conosceva io mi sono iscritto a giurisprudenza perché in realtà non volevo fare l'università non me ne fregava niente io volevo fare musicista a tre anni avevo già questa insomma mio padre mi portò un concerto anzi no un'opera regoletto e a quell'epoca come del resto sentivo la musica molto fortemente nel corpo la sentivo proprio per cui quando sentivo la musica mi agitavo come forse fai te così finché ci fu un attimo di pausa mio padre mi lasciò libero e io partì e andai diretto dal direttore d'orchestra perché hai cosa gli dico? te lo dico e spiego tiro la giacca del direttore d'orchestra e gli dico scusi è difficile fare il direttore d'orchestra perché avevo capito che era quello che volevo fare allora lui mi chiamò su vabbè cominciò da lì cominciò la mia propensione verso la musica avevo deciso cosa fare da grande era chiarissimo perché mi inizia a studiare a quattro anni poi mio padre a sei anni quando io avevo sei anni lui ne aveva un po' di più ma comunque come età maturità mio padre era rimasto un adolescente ecco quindi era per questo che era molto simpatico non aveva raggiunto quella tremenda età adulta dove la gente diventa seria lui era uno che scherzava giocava rideva però a sei anni mio padre riuscì a fare un bellissimo fallimento insomma aveva un debito di un tanti soldi per cui si dovete far prestare soldi dai nostri familiari e cominciò un periodo difficile insomma non avevamo più soldi per tenere un pianoforte perché bisognava affittarla per cui insomma io smisi studiare e poi ripresi più avanti ma inizia a studiare violoncelo e voglio diventare violoncelista però dopo se mi guardate 15 anni dopo mi vedete a segnare diritto pubblico cosa c'è stato in mezzo poi mi sono guardato intorno e ho visto che molte persone sbagliano strada nella loro vita i medi che sono portati per fare quella cosa e ne fanno un altro quello che cosa vuol dire pian pianino mi sono reso conto che quello che avevo studiato fino allora non serviva per la vita cioè serviva per un mestiere ma non serviva per la vita cioè non ti dava strumenti per capire chi sei per conoscerti ecco ecco è là eh ma infatti io lo sto capendo pian piano mi caffretta devi avere scusate lui parla piano va bene ti do il microfono allora pian piano cominciai a riprendere studi musicali e diventai professionista in quel settore però non più musica classica facevo musica di improvvisazione cioè sempre classica di contemporanea di improvvisazione proprio in quel periodo incontrai un musicista venne al nostro concerto un pianista di Genova molto conosciuto e mi disse ma tu devi conoscere Boris Borena che è un grande compositore italiano che si occupava di insegnare musica si era ritirato dal circuito dei grandi della musica si era dedicato a insegnare musica ai bambini di un paese vicino a Roma Cantalupo andai a trovare Boris Borena al conservatorio in Santa Sicilia e lì accade per me una svolta nella mia vita ecco la svolta entro nella aula di composizione con il battito cardiaco che stava accelerando notevolmente perché avevo paura ovviamente io non ero manco pianista io sono pianosialista e l'accordo che avevamo mi fa sentire un pezzo di improvvisazione a pianoforte perché diceva pianoforte mi trovo davanti a questo grande compositore nell'aula di composizione entro appena lo vedo tutta la tensione che avevo addosso se ne va da come lo sguardo dal suo sguardo capisco che lì mi inconscio capisce che non c'è niente da temere non mi era mai successo non avevo frequentato diversi ambienti conservatori da una parte le università dall'altra e mai avevo incontrato una persona che per la sua semplice presenza per il modo con cui ti guarda passa immediatamente tutta la tensione nervosa mi inizia a suonare mi disse bene senti sei venuto da Genova sai che ti occupi di improvvisazione ci interessa questo qui ci sono alcuni allievi vediamo ascoltiamo cosa proponi facci sentire subito qualcosa mi misi al pianoforte e mi resi conto che non ero io a suonare ma le mani che funzionavano da solo e dopo facevo un'analisi di quello che avevo eseguito e da lì iniziò una nuova fase della mia vita cioè fino a quel momento non avevo incontrato una sola persona che aveva avuto questo impatto su di me cominciai a frequentarlo e pian piano quelle che erano cose che non riuscivo a capire le tensioni che avevo dentro perché avevo due passioni grosse la musica da una parte e l'alpinismo dall'altra non sono mica facili da conciliare e vado a fare giurisprudenza cioè sono proprio una situazione di schizofrenia infatti alcuni miei amici quando avevo ripreso la musica pensavano che fosse diventato tutto pazzo quando incontro Morris comprendo che la follia non abita dentro di me più di quanto abiti in altre persone intorno e soprattutto di quanto abiti nella nostra società nella nostra cultura Morris che parte dall'analisi musicale si è poi dedicata all'analisi della cultura della nostra società a comprendere quali sono i presupposti velenosi che fanno sì che le persone non capiscono nemmeno chi sono e frequentando la casa di Morris pian pianino cominciò a scoprire una via che era completamente nuova da prima cominciamo a fare i concerti insieme e vi dico una volta una volta eravamo a Venezia eravamo in coda dovevamo andare a fare un concerto alle nove di sera alle otto e mezza scoda disse a Morris mi sa che arriviamo proprio in ritardo stavolta e lui senza spostare le mani dal volante senza guardarmi disse vedrai che senza di noi non iniziano fine che si non iniziano non iniziano Grazie.